Vorrei innanzitutto ringraziare, come sempre, la Fondazione Notte della Taranta, quindi un applauso grande alla Fondazione Notte della Taranta per tutto quello che fa per noi. Quindi l'applauso deve essere grande, lungo e potente. Forza! Un applauso e un grazie anche a chi mi ha sopportato qui dietro, ai miei amici. Incominciando dal capo, dietro di me, sulla pedana, mister Antonio Dema! All'aria! All'aria di questa è quasi lunga! Alla mia destra! Al Zamburo! Sergio Pizza! Sempre alla mia sinistra! Al vestito rosso! Vieni qui, vieni qui! Ti voglio più vicino! Prenditi tutto l'applauso! Di tutto il sonnino! Al violino! Valentina Cariuno! Sempre alla mia sinistra! Il mondo non ce lo conosciamo da un bel po' di anni, vero? Tanti anni! Per me questa sera è un onore averlo qui! L'ho conosciuto nel 2005! Ai piatti! Gianluca Milarese! E' un grande! Alla mia destra! Suona tutto! Tutte le corde! Tutte le corde sono sue! Chitarra pazienza! Chitarra classica! Il maestro Infazio Rizzello! Per me questa sera è stato un super piacere averla qui a Zollino! Però manca lo tappeto rosso! Tappeto rosso lo fate voi! Zollino! All'aria con le mani! All'aria! All'aria! Prego l'applauso! Ha ballato per voi questa sera Zollino! Francesca Trasco! Grazie! Grazie mille! Buonanotte a tutti! E' stato Pedro! Noi ci siamo divertiti! Esperate per voi! Buonanotte a tutti! Alla prossima! Noi ci siamo Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi voglio bene, sempre. Ciao Zollino, è stato bello.